Tra poco il notiziario di ETV, tutti i fatti, la cronaca e la politica della tua città. Per la tua pubblicità su ETV Rete 7, chiama 051 63 81 819. Buongiorno telespettatori e ben ritrovati con la prima edizione del nostro telegiornale. Seggi aperti oggi ovviamente anche in Emilia Romagna per le elezioni politiche. Si potrà votare fino alle 23 e lo scrutinio inizierà immediatamente dopo. Alle elezioni per il rinnovo della Camera alle 12 ha votato il 18,39% degli aventi diritto a livello nazionale quando i dati sono circa la metà relativi a 4.014 comuni su 7.904. Alle elezioni per il rinnovo della Camera alle 12 ha votato in Emilia Romagna il 23,5% circa degli aventi diritto con dati provenienti da 329 comuni su 330. Alla precedente tornata elettorale aveva votato il 22,7% degli elettori. Ricordiamo che in Regione sono chiamati al voto complessivamente 3.328.000 cittadini. Votano in 4.525 seggi per eleggere 43 parlamentari, 29 alla Camera e 14 al Senato. Lo si rileva dal sito del Ministero dell'Interno nella precedente tornata elettorale a livello nazionale, quella del 2018. Alla stessa ora si era recato alle urne il 19,18% degli elettori per la Camera, dunque una lieve flessione. A Bologna il totale dei votanti è di 287.417, i seggi allestiti sono 445 nazionali, 362 estero e 14 seggi speciali distribuiti tra carcere, ospedali e case di cura. Ed ora andiamo a vedere rapidamente i candidati che questa mattina sono stati immortalati al momento del voto, candidati e non. Il sindaco Lepore che si è recato alle scuole Cesana in zona Barca e dunque ha votato. Poi Pierferdinando Casini, candidato invece per l'uninominale del Senato, si è recato alle urne, alle scuole Viscardi, al quartiere Mazzini, intorno alle 11.30. Beccato dalle telecamere al momento del voto, al seggio invece allestito alle Aldrovrandi Rubbiani, anche l'ex sindaco Virginio Merola in corsa per l'uninominale della Camera. Al voto anche Galeazzo Bignami, capolista alla Camera per le province di Bologna e Modena e candidato per Fratelli d'Italia, ha votato anche lui nelle prime ore di questa mattina. Sorridente alle urna stamattina, anche lui Marco Lombardo, ex assessore al Comune di Bologna e candidato del terzo polo nell'uninominale di Bologna per il Senato. E appunto essendo ovviamente ancora in clima di voto, facciamo il punto su come votare in questa scheda. Al seggio ogni elettore riceve due schede, una rosa per la Camera dei Deputati e una gialla per il Senato. Su ciascuna scheda l'elettore esprime un unico voto, non è previsto il voto disgiunto. La scheda riporta il nome del candidato nel collegio uninominale, simboli, liste o gruppi di liste nel collegio plurinominale, nomi dei candidati nel collegio plurinominale. Si vota tracciando un segno sul rettangolo con il simbolo della lista e i nomi dei candidati nel collegio plurinominale. Il voto così espresso vale sia per il candidato nel collegio uninominale, sia per la lista nel collegio plurinominale. Se metti il segno sul simbolo della lista, il tuo voto vale anche per l'uninominale collegato e viceversa. Lo stesso accade se indichi solo il simbolo di una lista in coalizione. Il voto va sia alla lista che al candidato uninominale. Si può votare anche con un segno sul nome del candidato uninominale collegato a più liste in coalizione. Il voto va anche alle liste collegate in proporzione ai voti ottenuti nel collegio uninominale da ogni singola lista. Se voti il candidato uninominale, questo va anche alla lista singola a lui collegata per la parte proporzionale. Puoi anche votare mettendo un segno sul nome del candidato uninominale e anche sul simbolo sottostante con il contrastante. Il voto è comunque valido a favore sia del candidato uninominale sia della lista. Se metti un segno sul simbolo e uno sulla lista dei candidati del collegio plurinominale della stessa lista, il tuo voto è valido sia a favore della lista sia del candidato uninominale. Non puoi votare un candidato e una lista non collegata. Questo è considerato un voto disgiunto e la scheda sarà considerata nulla. Ed ora chiudiamo la pagina dedicata alle lezioni. Tra due giorni si terrà una nuova udienza a Mansura del processo. Lo studente egiziano dell'Università di Bologna, Patrick Zaki, accusato di avere diffuso notizie false. Non mi aspetto nulla, ha dichiarato il giovane che ha trascorso due anni e mezzo in carcere prima di essere rilasciato. Adesso sono libero dalla prigionia ed è già molto, ma non sono purtroppo libero di vivere. Il giudice di Mansura potrebbe assolvermi, annullare la scarcerazione o rinviare a chissà quando. Il mio processo è la mia condanna. Queste le parole dello studente che avrebbe voluto partecipare all'inaugurazione dell'anno accademico a Bologna allo scorso 23 settembre, ci ho sperato tanto, fino all'ultimo ha confessato, ma niente da fare. Questi dunque gli ultimi aggiornamenti sulla situazione attuale di Patrick Zaki, ma proprio ieri durante la manifestazione per i diritti delle donne in Iran che si è svolta sotto le due torri, si è parlato anche appunto di Patrick Zaki. Abbiamo sentito la delegata del sindaco per i diritti, la professoressa di Unibo, Rita Monticelli, che da tempo segue e monitora la situazione dello studente egiziano. Sentiamo dunque le sue parole. Qual è la situazione? La situazione è difficile, è sempre complicata, sempre incerta. Questi continui rinvii, nonostante Patrick sia a casa, non è in prigione, non è libero. Questa è una cosa che dobbiamo ricorderci sempre. Ogni udienza potrebbe riportare Patrick in carcere, ogni udienza potrebbe essere diversa da quello che vorremmo. Cioè vorremmo che fosse assolto da tutto e potesse tornare ai suoi studi. Il 26 è una data importantissima per noi e vorremmo che fosse davvero assolto da tutto perché consideriamo e sappiamo la sua innocenza. È significativo che siamo qua, in questa piazza, di fronte all'immagine di Patrick, a chiedere fortemente libertà per le donne iraniane che non vengano violati i diritti umani. È quello che Patrick fa, quello in cui crede, nei diritti umani e nella libertà delle persone. E ora passiamo alla cronaca. Intervento dei carabinieri ieri pomeriggio nell'area adiacente al centro commerciale Gran Reno di Casalecchio di Reno dove si sono radunati dei gruppi di giovani e giovanissimi. Come vediamo in queste immagini che stanno in queste ore facendo il giro dei social si è verificata una rissa fra due ragazze in un altro punto della zona davanti al punto vendita quando è intervenuta un autoradio dei carabinieri. Un ragazzo di 15 anni è salito sopra il cofano con in mano uno smartphone circondato da altri giovani che stavano filmando la scena. Il 15enne è stato fermato dai carabinieri e denunciato per resistenza a pubblico ufficiale e danneggiamento in base a quanto si apprende. Non sarebbe la prima volta che si verificano degli episodi simili nella zona e dunque accertamenti sono ora in corso. Ora diamo un'occhiata alla situazione del tempo. Permangono condizioni di maltempo in Emilia Romagna anche per le prossime ore. Secondo il bollettino dell'Agenzia regionale per l'ambiente e della protezione civile l'avviso riguarda possibile criticità idrogeologica per le zone d'Appennino nelle province di Forlice, Sena, Rimini, Ravenna, Bologna, Ferrara, Parma, Reggio Emilia e Modena. Sono previste delle precipitazioni anche a carattere di rovescio temporalesco sul settore collinare e montano centro-orientale e localizzati fenomeni franosi anche nella giornata di oggi. Le precipitazioni poi e le condizioni di maltempo dovrebbero pian piano esaurirsi già dal pomeriggio. Ed ora parliamo di arte perché fino al prossimo 19 marzo il Museo Civico Archeologico di Bologna ospiterà la mostra dal titolo I pittori di Pompei, mostra che si propone di ricostruire le storie e i racconti delle pitture parietali nelle case di Pompei e Dercolano. Cerchiamo però di capire chi erano questi pittori e qual era il ruolo che ricoprivano all'interno della società del tempo. Plinio è molto chiaro. Plinio il vecchio è appunto l'ammiraglio della flotta romana che conosciamo per la sua morte tragica durante l'eruzione del 79 d.C. Quindi è un contemporaneo, se vogliamo, delle decorazioni che noi vediamo all'interno di Pompei soprattutto di queste decorazioni come del quarto stile alle mie spalle. è una persona che nella sua cultura ci racconta della pittura e ci dice proprio che c'è una differenza tra la percezione del pittore da terriere del pittore dell'artista da cavalletto che è appunto visto come un artista e invece la nuova forma della pittura, la nuova frontiera della pittura che lui critica perché sembra essere una pittura solo di decorazione d'ambiente e quindi uno svilimento della pittura. Però paradossalmente quei pittori così, come dire, visti come una fase calante della storia della pittura sono stati per noi e per la nostra storia dell'arte fondamentali perché poi in modo diretto o indiretto hanno influenzato tutta la storia dell'arte e tutta l'evoluzione dei grandi pittori. Basti pensare all'esempio delle Tre Grazie che abbiamo qui in mostra è un modello iconografico noto già nell'antichità replicato dall'età romana sino agli esempi di Picasso da tutti i grandi artisti, Raffaello, Botticelli, Canova nella scultura tutti si cimentano con questa riproduzione di questo modello di cui non sappiamo però il nome dell'artista. Un progetto espositivo che ripercorre le splendide pitture parietali delle antiche Domus di Pompei, Ercolano e dell'area Vesuviana con splendide immagini dai colori vivaci e spesso di grandi dimensioni. Un'esposizione di valore storico e culturale immenso frutto di un accordo tra il Comune di Bologna, il Museo Civico Archeologico e il Museo Archeologico Nazionale di Napoli. Questi artisti non lasciano firme ma lasciano la personalità, la presenza della società e l'evoluzione delle società all'interno della storia, anche di una città piccola o una città importante come Pompei ma possiamo immaginare questo discorso come dicevamo anche in altre realtà. Parliamo ancora di cultura perché il Museo Nazionale del Soldatino che lo ricordiamo ha sede a Villa Aldrovandi Mazzacorati dovrebbe essere ospitato nell'orangerie che sorge proprio di fianco alla villa. La proposta arriva dal vicepresidente del Museo Alessandro Neri. Il trasloco però non potrà arrivare subito perché l'orangerie necessita appunto di lavori di ristrutturazione. Andiamo a vedere nel servizio di Riccardo Borsari. L'orangeria a fianco di Villa Aldrovandi Mazzacorati potrebbe diventare la nuova sede del Museo Storico Nazionale del Soldatino. L'edificio che necessita di urgenti interventi di ristrutturazione come evidenzia il neonato comitato di cittadini Salviamo Villa Aldrovandi Mazzacorati una volta restaurato sarebbe il luogo ideale per ospitare le importanti collezioni di soldatini. Il museo attualmente ha sede in una stanza della villa che ha avuto problemi di infiltrazioni d'acqua. Del Soldatino abbiamo già detto di tutto adesso dobbiamo dire che finalmente c'è stato ripristino della perdita che avevamo, hanno sistemato, il quartiere lì si è dato da fare e dovremmo finalmente riuscire a ristrutturare quella parte là così da rendere agibile perché adesso purtroppo è chiuso per ovvie ragioni diciamo così di relativa sicurezza. Il resto è sempre quello. La situazione è questa, ci sono molti pezzi che devono essere esposti, una soluzione che ci viene da pensare, utilizzare l'orangerie che è molto più piccola quindi la ristrutturazione è molto più semplice, molto più facile, molto meno costosa e si potrebbe finalmente utilizzare gli stabili esterni all'interno di questa villa che intanto verrebbe molto più valorizzata come parco e come stabili. Non ci sono altre notizie, il nostro telegiornale si chiude qui, grazie a tutti per averci seguito vi ricordo che l'informazione torna come sempre questa sera alle 19.20 Restate con noi con ETV Da oggi l'informazione di ETV Rete7 è disponibile gratuitamente sul tuo smartphone e potrai accedere a tutte le video news prodotte nel corso della giornata in tempo reale.